Ciao a tutti! Non ci vediamo veramente da tantissimo tempo qui sul canale YouTube. Per chi non mi conosce, io sono Audrey e sono la ragazza Riccia. Oggi non vengo a parlarvi di prodotti, di capelli, di styling, nulla di tutto ciò. Voglio parlarvi di un prodotto che mi è arrivato, che mi è piaciuto veramente moltissimo e ho voluto condividerlo qui su YouTube. Questo prodotto si chiama il Laxley Confidence e non è altro che un aspiratori per punti neri. Wow! Per chi mi conosce e mi segue su Instagram lo sa che ogni tanto mi compaiono dei brufoletti in faccia che mi danno abbastanza fastidio perché dico io a 33 anni queste cose non possono succedere. Invece ogni tanto gli ormoni fanno un po' i pazzerelli ed espuntano fuori direttamente dal viso. Ho iniziato il trattamento da subito appena che mi è arrivato ed è stato una bomba perché ho visto subitissimo il cambiamento sulla mia pelle. Questo aspiratore è adatto per pulire punti neri, per chi ha problemi di acne e anche per sfogliare la pelle dalle cellule morte. Infatti ho sentito una pelle subito molto liscia e morbida. Con due trattamenti a settimana i punti neri verranno definitivamente sradicati. Basteranno solo 5 minuti per combattere l'acne e le impurità. Nel prossimo video vi faccio vedere quindi come l'ho usato. Siete pronte? Adatto per persone sensibili. C'è dello schifo da vedere! Siete pronte? Grazie a tutti. La pelle è davvero molto molto liscia, questa cosa mi piace molto. Come avete visto questo aspiratore riesce subitissimo a togliere le impurità, soprattutto in quelle zone dove non ci si arriva, come ad esempio la zona circolare del naso e il mento. Qui per me è sempre molto difficile, io vorrei tanto farvi sentire il mio mento perché è molto levigato. Adesso vi dico quindi quali sono le cose da non fare con l'aspiratore che si è acceso. Rimanere per più di tre secondi sulla stessa zona perché potrebbe crearvi dei lividi. Partire subito con la velocità alta. Non aprire i pori con i vapori. Questo passaggio ragazzi è fondamentale perché aiuta l'aspiratore alla rimozione delle impurità. Un altro passaggio importante che non dovete dimenticare è che non dovete ignorare e distendere la pelle. In questo modo eviterete allungamenti della pelle inutili. La confezione è fornita di altre tre testine. Ogni testina ha una funzionalità e ora ve la presento. La prima testina, a differenza di quella per punti neri, ha un buchino molto più largo che è adatto per la pulizia profonda. Sconsigliata per chi ha una pelle molto sensibile. La seconda testina ha anche lei un buchino molto più largo ma questa testina è così larga perché serve per tonificare e sicuramente per rassodare la pelle. Questa testina la devo ancora provare ma se mi seguite su Instagram vi racconterò lì come va. Invece l'ultima testina è adatta per l'esfoliazione molto indicata per attivare il microcircolo su tutto il viso. Per chi fosse interessata ad acquistare questo aspiratore, Luxury Confidence mi ha donato di un codice sconto da condividere con tutte voi. Il codice RICCIA100 ha accesso a un buono di 100 euro. Inoltre, se entro 90 giorni non avrete nessun risultato, verrete rimborsate. Il codice sconto RICCIA100 è disponibile fino al 17 di ottobre, domenica 17 di ottobre e scade a mezzanotte. Proprio come a Cenerentola. Muy bien amigas mias, questo è il momento di finire questo video. Mi ha fatto veramente molto piacere rivedervi nuovamente qui su questo canale. Fatemi sapere se vi interessa, non so, una volta tanto, anche una settimana, nel video in cui parliamo di tutto tranne di capelli. Se volete invece sapere come curare i vostri capelli ricci, andate sulla mia pagina Instagram e lì trovate tutti i consigli che vi servono per prendervi cura dei vostri ricci, che sia recuperarli o che sia mantenerli. Mi raccomando, se provate il Luxury Confidence, fatemi sapere taggandomi nelle vostre storie. Un beso, miscarita amigas de mi corazón y nos vemos por Instagram. Ciao!